qui al centro della pista ma dietro delle mie spalle la sposa di questa volta è la vera sposa perché le altre sono solo quelle che le ragazze che tra poco tirano sì ma allora intervistare la sposa che si chiama stefania che per fortuna la sente anche bene visto l'alto volume della musica stefania e allora auguri innanzitutto io sono alex avete detto sì a che ora a che ora avete detto sì 11 e 30 precisi eh 11 e 30 tutto bene perfettissimo tutto sposo da qualche parte non so dove allora 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 avete quindi mangiato avete detto sì siete qui a bailando bailando questa stupenda questa canzone e se resterai fino alla fine chissà quanto ne ascolterai fino alle tre del mezzo del mattino ti va che se la faccia con i tacchi ma sai che esistono anche le ballerine bailando ballerine per tirare fino alle tre e mezzo del mattino allora facci una promessa resti con noi ovvio sì assolutamente filo alla camera ovvio che sì e questa sera è sabato vivo e in denso con stefano la nostra sposa del sabato sera buon minuti ciao ma arrivano ciao ciao ciao